E' deceduto lunedì 6 maggio Don Duilio Farini, primo parroco di Cristo Risorto a Casalecchio di Reno. Don Duilio aveva 81 anni ed era decano dei parroci urbani e canonico statutario di San Petronio. Nato nel 1943 e stato ordinato presbitero nel 1968. Ha svolto il ministero alla Sacra Famiglia e a Castenaso. Dal 72 all'80 è stato parroco a Rocca di Roffeno e Casigno. Nel 1980 è stato nominato primo parroco a Cristo Risorto di Casalecchio di Reno, la cui chiesa è stata consacrata nel 2007 dal Cardinale Caffarra. Dal 93 al 95 Don Duilio è stato direttore di Insieme Notizie, il quindicinale che ha preceduto Bologna VII nel servizio delle comunicazioni della diocesi. La messa esequiale presieduta dal Cardinale Arcivescovo sarà celebrata mercoledì 8 maggio alle 20.30 nella parrocchia di Cristo Risorto.